e quindi come avete sentito altri consigli molto interessanti e quindi noi come sempre vi consigliamo di andare con una persona di cui vi chiede per farvi consigliare bene ed è tutto per questa sera con la pagina della finanza e l'appuntamento con ora qui è finito a te e ora qui è stata voi 5 minuti e qui in Ternice la scheranza è di averci tenuto compagnia al meglio in questo appuntamento e quindi non è che il tuo male sì, il tuo male su di noi ci avresti scusso su di noi e il mio sorriso tu sei lo vuoi cantare su di me respirare così su di noi di cui ci diceva no vedrà che tutto è fallato su di noi i personaggi indossano l'abbigliamento di Cino Crash situato al 27 di Portia Grove a World Crash su di noi il tuo male su di noi il tuo male su di noi su di noi Grazie.